Wow! Ma che velivolo è quello? Mai visto nulla di simile! Piccolo Klaib! Che ci fa la presidentessa in cortile? Il mondo intero è in grave pericolo. Voglio che tu venga con me in una spedizione. Io non sono mio padre. L'esploratore era lui. So che eri un bambino quando è scomparso. Ma solo tu puoi aiutarci. Signor Klaib, sono un super fan di suo padre. Riuscirebbe a contraffare il suo autografo? Cosa? Ma dove siamo finiti? Vita, mi hai portato il cane! Scusa! Siamo in territorio più che inesplorato. Ciao, immagino tu non riesca a capire quello che dico. Ma certo che ti capisco. Papà! Papà! Nonno? Nonno, io! Che posto è questo? Le faleglie sono vive. E queste acque possono spolparti fino all'ossa. Qui ogni cosa cerca di ucciderci. Ti dispiace se ti chiamo Splat? È che hai proprio una faccia da Splat. Ai! Me la sono cercata. Non è un mito! Ma quale mito? Mi hai regalato un macete al mio compleanno. Classico di Egerclade. Ha due anni. Adoro le riunioni di famiglia, ma andiamo! C'è un mondo da salvare! Devi trovare una soluzione o siamo rovinati! Siamo rovinati! Cosa? Davvero? No! Ti sto prendendo in giro! Non puoi mai rilassarti. 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 Grazie a tutti.